Approvato in Senato il testo che prevede una graduale abolizione del Green Pass, lei cosa ne pensa, è d'accordo? Io sono perfettamente d'accordo perché ormai questo non è più un pericolo, non rappresenta più una difficoltà come in origine. Adesso con tutte le esperienze che si sono verificate, i medici si sono anche evoluti e quindi per fortuna andiamo verso una stagione più tranquilla. Per le multe non vax, non lo so cosa dire, ma mi pare che non servano. Inoltre è stato anche abolito l'obbligo di tampone al termine della quarantena, lei è d'accordo? Sono d'accordo anche perché, come ripeto, la medicina, la sanità si è evoluta e quindi il pericolo Covid non rappresenta più lo spavento. Io penso che bisogna trovare un fronte comune e un accordo comune a questa cosa, quindi non c'è esattamente uno giusto o uno sbagliato perché gli errori sono stati fatti anche in precedenza, quindi è un fronte comune dove siano tutti d'accordo e non ci siano più parti divise. Inoltre sull'abolizione del tampone di fine quarantena cosa ne pensa? È una cosa su cui devo riflettere perché non ho avuto modo di rifletterci a sufficienza, ripeto, la stessa cosa secondo me deve essere una cosa definitiva. Sì, sono molto d'accordo perché è arrivato il momento di guardare avanti e siamo ormai abituati a questo scenario, quindi i casi mi sembra siano diminuiti molto. Ci dobbiamo un attimo abituare che c'è anche questo nuovo virus e quindi sì, è ora che ritorniamo alla normalità, ne abbiamo anche voglia e bisogno. Un altro provvedimento invece è quello che riguarda l'abolizione del tampone di fine quarantena, quindi una persona dopo aver trascorso 5 giorni di isolamento è libera di uscire senza il tampone. Su questo è d'accordo? Sì, sono molto d'accordo anche su questo perché è ora comunque di togliere le restrizioni e di imparare a convivere con questa cosa, sempre sperando comunque sulle persone che abbiano un po' di testa nel fare certe scelte, quindi affidiamoci alla gente e al loro buon senso. La sospensione è un po' d'accordo perché è anche giusto che tutti vadino a lavorare, però è una questione anche personale, cioè che uno se si ritiene all'altezza deve anche rispettare una democrazia, quindi per andare un po' in difficoltà insomma, perché mette in difficoltà i suoi colleghi nella società, quindi un po' deve così. Invece sull'abolizione del Green Pass per entrare in ospedale o nelle case di riposo? Sì, quello è ormai, cioè il Green Pass non serve più, è un modo superato nelle cose, nella società, perché è inutile che, cioè tutto dobbiamo puntare sulla nostra coscienza, sul nostro sistema di vita, di stare tranquilli, non tanto per andare sul Green Pass e le carte, le carte e le persone che devono ragionare con la sua testa.